mi piace quel gusto caramello che poi rilascia, quindi vi dirò poi stasera, vi ho detto prima che farò uno short con il risultato e quindi vi dirò anche come sono di gusto e ve li farò vedere, quindi nel caso non foste iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina su tutte, così vi arriva lo short e vedete il risultato finale stasera, non so bene l'orario che caricherò e il tempo che torno a casa preparo la cena e quindi farò un video, grazie, grazie Jacopo, e farò un video con il risultato, quindi se sei iscritto sicuramente ti arriverà la notifica, adesso li metto lì da parte, no se li lascio qua, l'impasto, ti faccio vedere l'impasto, aspetta, è veramente molto bello l'impasto, ma iscritto, sì, ho letto, ho letto che sei iscritto, certo, grazie, è già molto, è già soffice, è favoloso, le bolle, sì, sì, infatti ti ho detto anche che se sei iscritto sicuramente ti arriverà la notifica, adesso l'impasto lo rimetto in frigo, così lui va avanti a lievitare, intanto i miei biscottini si stanno preparando, quindi niente, è un'ora e 45 che siamo, che sono in diretta e io adesso vi saluto, vi ringrazio chi si è collegato subito e chi è riuscito a collegarsi dopo, spero che voi vi siete iscritti al canale, così riuscite a seguire tutte le altre mie ricette che pubblicherò, che ne ho già due, due già caricate e quindi ci insomma sto lavorando, che sono i pasticciotti e poi ho fatto una pasta con asparagi e la salsiccia, quindi mi serve qualche giorno per poter editare e poi caricare su YouTube. Quindi io adesso vado, vado a lavoro, vi ringrazio tanto per esserci stati con me, vi mando un bacio e poi ci saranno altre dirette sicuramente, vi mando un bacio e poi stasera carico il video con il risultato. Ciao Daniela, grazie per esserci stata con me, ciao Iacobo, ciao Alessandra, ciao Salvatore e ciao Nati. Grazie mille, vi mando un bacio e ci vediamo nella prossima diretta e poi stasera. Ciao Jacopo, ho detto Jacopo, scusa, allora, c'è